Giovanni, ci vuoi spiegare come mai siete qui oggi, stamattina? Allora, quello che è successo è che il Comune di Milano ha consegnato un premio per la civica benemerenza a Ilaria, che è stata la ragazza che ha messo la prima tenda in piazza Leonardo da Vinci, premiando il suo impegno civico per una questione delicata come quella del Carafitti, però noi non riscontriamo da parte del Comune di Milano un impegno altrettanto valido per risolvere effettivamente la questione. Le misure portate avanti fino adesso sono timide e sicuramente non miglioreranno la situazione per i cittadini di Milano e per gli studenti che vengono qua. Quanto costa vivere a Milano? Tantissimo, si parla di prezzi, insomma, fuori portata. Prova a dirlo, qualcuno non lo sa. Non lo so, è anche 800 euro a stanza, per una stanza, ripeto, si spende metà dello stipendio per chi lavora per pagarsi un attetto sopra la testa e è una situazione che va risolta. Noi abbiamo portato delle proposte al Comune di Milano che è all'ultimo tavolo affitti che c'è stato con le rappresentanze studentesche e ha messo di non sapere come fare e quindi noi diciamo guardate come fare, ve l'abbiamo detto. Quindi fino ad ora nulla è avvenuto di fatto? No, ed è una situazione grave, insomma, che se non c'è un impegno concreto da parte del Comune con delle misure un po' più coraggiose di quelle adottate fino adesso che sono di aggiungere 600 posti per gli studenti, non andrà da nessuna parte questa città proprio. Come avete vissuto questo ambrogino d'oro? Ci è sembrata una presa in giro e quindi siamo qua a dire questo sostanzialmente. Grazie infinite. Figurati.